serve solo a noi se cosa, allora non gli faccio morire vanno a vedere che stai succedendo guarda qua, guarda la roba è tu, la roba è tu in Svizzera vieni che hai combinato, guarda guarda qui che sta facendo, guarda qui ci faccio creerlo io gli capi una cosa, hai fatto una diavola guarda come l'hai messa queste sono cose dell'altro mondo ma secondo te, tu come ti mangi questa pizza? parla a prigio e copri un pozzaiolo vanno a vedere che stai succedendo guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua, guarda qua guarda qua, guarda qua come ti mangi questa pizza? faccio la panetta a voi no, no, faccio la panetta a voi faccio la piegatura, vai guardate al tavolo pure che questo sa da sapere fare bravo, complimenti faccio la panetta a voi non c'erano nette cose non c'erano solo a noi allora noi facciamo morire tanti anni fa come si faceva la pizza non esisteva il cartone, quindi si piegava, si metteva nella fogliaccia, la pizza si piegava così, vedi? Sotto si metteva una navetta di cartone, poi con i fogliacci si piegava, no, proprio nella funne, vedi? Piegava una postina e ciò tra l'altro si mandava in un buro caldo, quindi potrebbe arrivare a lui, mettevi così, bravo, dammi la busta, ecco qua, vedi qua, vedi? C'è un tipico da busta, così, e che io le stavo a buttare pure per costruire a fare bicicletta, ma non me la fai qui, ma per pure la mia, non sta? La lui già? Ecco qua, vai, va bu, mi è cussato le moto sta pizza, non fa niente, mangiate la saluta mia, guarda mia, anche non mi tocca, vedi? Grazie, buona fredda, bravo, Grazie a tutti